di voti che sono andati alle pene questo non è un dettaglio insomma che si può far finta di non vedere sicuramente il voto di ieri ha determinato un terremoto sarebbe necessità non non vedere soprattutto quanto sia stato cambiato il quadro e le retoriche siano state cambiate che si erano generate con l'emergere di macron quando 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 vinse a mani basse le presidenziali e conquisto una maggioranza amplissima nel parlamento rispetto ad allora l'immagine di macron è molto ma molto ma molto appannata liquidare il risultato di ieri sotto l'insegna del populismo io credo che sia che sia sbagliato intanto perché lo stesso macron è un populista ha vinto la volta scorsa distruggendo i partiti tradizionali i partiti storici svuotandoli e personalizzando moltissimo il il voto oggi paga paga una crisi che è profondissima io tenderei a dire persin poco quello che è successo in francia se lo confrontiamo con la gravità della situazione che non è solo determinata dalla guerra su cui tutta l'attenzione politica e mediatica è concentrata ma la guerra è solo il baricentro di una serie di cerchi di crisi c'è una crisi ecologica drammatica lo vediamo in italia con la siccità c'è una crisi della democrazia in francia ha votato poco più del 40 per cento degli aventi diritto la settimana scorsa alle amministrative in italia eravamo poco più sopra c'è un esodo dei cittadini dal dal voto e dal dall'arena politica che è che è un segnale che dovrebbe essere colto con allarme se la risposta è non preoccupiamoci perché gli esecutivi continueranno come prima sulla sulla stessa linea e suicida e suicida certo che il sistema costituzionale francese permette al presidente di tirare dritto anche se la maggioranza del suo popolo va da un'altra parte ma non aiuta certo certo la democrazia la le pen ha avuto un risultato clamoroso perché la volta scorsa aveva otto seggi e questa volta ne ha dieci volte tante ma al 17 per cento dei voti un segnale d'allarme una le pen che ha assunto un profilo meno rato più basso e ha pagato ma rimane quasi alla metà e percentuale dei voti e anche in valori assoluti rispetto a quello che ha conquistato melanchon adesso inutile che si focalizzi solo l'attenzione sul suo trionfo la gauche ha avuto un risultato straordinario verissimo è un rassemblement è un insieme di forze non c'è solo france insumis ci sono anche quello che resta dei socialisti gli ecologisti i comunisti e così via e il segnale di una francia del basso di una francia sofferente socialmente sofferente che rialza la testa ed è un segnale importante l'europa l'europa ne esce indebolita l'europa si indebolita da sola lasciatemelo dire non è il voto francese che indebolisce l'europa l'europa fin dall'inizio di questa crisi ucraina ha rinunciato a fare politica e si accodata allo schieramento ad egemonia statunitense quel viaggio piuttosto patetico dei tre a kiev non ha giovato io credo naturalmente amatroni non è stato un bel segnale di forza perché patetico triste devo dire sono andati per fare una fotografia non sappiamo bene che cosa si siano detti non sappiamo bene che cosa abbiano promesso che cosa abbiano negato poteva essere tranquillamente una videoconferenza come ce ne sono state tante è stato un gesto come dire mediatico per dimostrare una solidarietà che era già stata ampiamente testimoniata con l'invio delle armi e quella fotografia in quel vagone a mio avviso è una fotografia triste di tre figure piuttosto scialbe dentro una crisi epocale dentro una crisi che ha l'epicentro in ucraina ma che coinvolge l'intero l'intero occidente e l'intero mondo rispetto a cui quelle tre persone risultano drammaticamente inadeguate però poi torneremo sui segnali perché anch'io sono convinta che ci sono dei segnali già oggi molto importanti e che ci aspettano ancora di più proprio anche come conseguenza questo conflitto che che forse non stiamo vedendo però volevo chiedere ok